Domenica 27 marzo 2022 allo stadio comunale di Torchiara si è giocata la partita tra ASD Torchiara Calcio e ASD Elea Velia per la diciassettesima giornata del gironedì della terza categoria di Salerno. La partita ha visto molte occasioni con Benz e Ereti, quattro delle quali hanno permesso agli ospiti di portare a casa i tre punti. I primi venti minuti scorrono senza grandi chance, fino a quando i padroni di casa guadagnano un calcio di rigore per un tocco di mano. Dal dischetto l'attaccante del Torchiara non sbaglia. Gli ospiti agguantano il pareggio dopo qualche minuto con una palla che attraversa l'area piccola, dove un semplice tocco sottoporto regarrà gli ospiti l'1-1. Intorno al quarantesimo, il Torchiara si riporta in vantaggio grazie ad un calcio di punizione ben battuto sul lato corto dell'area di rigore, su cui il portiere calcola male la traiettoria. Prima della fine del primo tempo, gli ospiti si portano sul 2-2 con un tiro da fuori aria. Nel secondo tempo continuano le occasioni da una parte e dall'altra. Prima il Velia scheggia il palo alla sinistra del portiere avversario, poi segna il gol del vantaggio con un tapin facile facile dopo una corta respinta del portiere del Torchiara. I padroni di casa ci provano, ma la stanchezza si fa vedere da entrambe le parti. Da calcio di punizione dal limite dell'area, il Torchiara scheggia una traversa, ma la ripartenza del Velia toglie ogni speranza ai giallo-blu. La squadra ospite riparte velocemente, ma a un passaggio troppo corto di un difensore del Torchiara costringe il suo portiere a rilanciare, che si trova a colpire l'attaccante ospite spianando la strada al tiro di un giocatore che aveva seguito l'azione. Inutile goffo l'intervento del difensore del Torchiara, che cerca di fermare la sfera ma allisce il pallone che entra comunque in rete, fissando il risultato sul 4-2 per gli ospiti.